Le si è avvicinato alle spalle mentre la donna, una sessantenne, stava prelevando lo sportello della banca Unicredit di Ponzano. È stato un attimo alla distratta e con un gesto repentino le ha sottratto la somma che aveva appena ritirato 1.500 euro. Il malvivente si è poi allontanato a piedi facendo perdere le tracce. La donna ha subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma e le indagini dei carabinieri di Montebelluna per identificare il ladro. Mi auguro che le indagini dei carabinieri portino all'arresto di questo malvivente. Mi spiace per questa persona che ha perso non solo una somma di denaro ma probabilmente la fiducia e la stima verso la società. Invito tutta la cittadinanza, specie quella più vulnerabile, a farsi accompagnare in questo periodo estivo, in particolar modo, da parenti, amici o conoscenti. Un furto con destrezza molto simile ad altri colpi messi a segno lo scorso giugno a Paese Maserada. Il modus operandi serve pressoché analogo. Per questi furti i carabinieri hanno fermato ed arrestato un rumeno di 21 anni. Il giovane è stato sottoposto dopo la convalida all'obbligo di dimora in un'altra regione. Il giovane distraeva le vittime facendo finta di aiutarle e poi le derubava. Insomma, molto simile a quanto accaduto a Ponzano. Le indagini dei carabinieri ora per accertare se si tratti o meno dello stesso individuo. In queste ore sono state acquisite le immagini di videosorveglianza sia della banca che della zona, che saranno ora visionate dai militari dell'arma.